Sono rimasta un po' colpita dalle ricostruzioni che ho letto in questi giorni su queste materie perché fermo restando che quello che sappiamo noi è quello che voi avete sentito dal sottosegretario Mantovano rispetto a questa vicenda. Queste persone non erano nella condizione di essere salvate da qualcuno che non ha voluto salvarle come purtroppo mi pare qualcuno voglia raccontare. Ora io mi chiedo se in questa nazione ci sia davvero qualcuno che è in coscienza in coscienza ritiene che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone tra cui qualche bambino. Cioè vi chiedo ma guardandomi negli occhi se qualcuno di voi pensa che il governo italiano potesse salvare 60 persone tra cui un bambino di circa tre anni il cui cadavere noi scopriamo oggi e non lo ha fatto. Vi prego, cerchiamo di essere un minimo seri. Buongiorno e buona domenica. Partiamo dalle dichiarazioni del premier Giorgia Ameloni al termine della sua missione diplomatica prima in India poi negli Emirati Arabi e proprio da Abu Dhabi da dove abbiamo ascoltato il punto stampa. A una settimana dalla tragedia di Steccato di Cutro il premier ha parlato e ha detto le parole ha attaccato frontalmente anche tutto il sistema diciamo di controllo delle frontiere europee di Frontex e insomma abbiamo ascoltato le altre cose che ha detto probabilmente ci sarà un consiglio dei ministri proprio lì a Cutro dove si parlerà di immigrazione. Insomma torna in Italia Giorgia Ameloni con una polemica fortissima che è scoppiata ascolteremo poi martedì anche le parole del ministro Piantedosi. Partiamo da qui ma sono tanti gli argomenti stamattina del nostro dibattito. Parleremo della manifestazione di ieri a Firenze che ha visto diciamo una prima parvenza di riunione del centro-sinistra con Elis Line, con Giuseppe Conte e il segretario della CGL Landini i sindacati che hanno organizzato la manifestazione di ieri ma parleremo poi alla fine anche dell'inchiesta di Bergamo che riguarda la zona rossa di Alzano e Nembro. Allora do il buongiorno intanto agli ospiti e amici che ci sono qui questa mattina parto da Giulia Merlo, giornalista del domani la gaffa di giornale l'abbiamo fatta insomma quindi va bene per tutta la puntata buongiorno Antonio Rapisarda Libero Livio Gigliuto vicepresidente dell'Istituto Piepoli buongiorno grazie vedo collegato il direttore degli stati generali Jacopo Dondelli buongiorno 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 Allora Jacopo parlo, parto con te proprio sulle dichiarazioni che abbiamo ascoltato di Giorgia Meloni il mare sta ancora restituendo corpi cioè questa tragedia ancora non ha un bilancio finale abbiamo passato la settimana a vedere quelle immagini strazianti di quella costa, di quella riva delle bare, Mattarella erano le parole che tu ti aspettavi dal Premier queste a una settimana di distanza perché effettivamente noi ieri abbiamo avuto l'ammiraglio Alessandro che è stato ufficio stampa della Guardia Costiera che è stato molto duro oggi anche sulla stampa interviene duramente su quello che si poteva fare e non si è fatto ma resterei proprio sulla comunicazione, sul tono che ha usato ieri Giorgia Meloni Beh direi che Giorgia Meloni ha deciso di commentare i commenti alla notizia e l'analisi della notizia principale ha detto ma davvero qualcuno crede in coscienza mentre invece ci si sarebbe aspettato subito che parlasse data l'enormità del caso lei stessa riconosce l'enormità del caso ci si sarebbe aspettato che parlasse lei e non lasciasse parlare male piante dosi prima e insomma sentirla dire ma davvero qualcuno crede che dopo quello che è successo invece di dire subito quello che lei ritiene cioè che non è vero che il governo ha lasciato morire e di spiegare come sono andate le cose invece di leggere un po' per volta solo le ricostruzioni giornalistiche che peraltro sembra lei integralmente contestare no, onestamente mi aspettavo ormai a questo punto una cosa del genere non credo fosse la cosa migliore da fare al di là del colore politico ma a partire dal rispetto dell'istituzione che rappresenta cioè il governo italiano vado da Antonio Rapisarda perché ieri c'è stata anche la lettera del sindaco di Crotone nei confronti della Melone si è molto parlato diciamo il governo piante dosi è andato subito giù ha fatto poi la conferenza stampa che abbiamo commentato in settimana c'è la sensazione che c'è come posso dire un deficit da questo punto di vista o meglio lo dico meglio diciamo una sorta di coordinamento da questo punto di vista anche all'interno del governo su come intervenire e come comunicare da questo punto di vista Allora i fatti si ripercorrono anche perché la vicenda è in fieri c'è un'inchiesta adesso della magistratura insomma giorno dopo giorno si intrecciano racconti Oggi i giornali fanno una sorta di ricostruzione però anche la magistratura sta acquisendo tutti quanti gli atti si parla dell'avviso di Frontex che non è stato chiaro in realtà praticamente i segnali c'erano tutti Tocchi giusto l'argomento principale si parte dal dato fattuale Frontex Frontex non lancia una segnalazione di allarme su questo c'è una procedura molto chiara in questo marasma diciamo di competenze che si intrecciano in questa vicenda purtroppo per fortuna sono tanti i controllori su questa vicenda tutti hanno guardato tutti hanno guardato quelle immagini tutti hanno guardato quei documenti che ha lanciato Frontex davanti a questo insomma si parte da un dato di fatto non è stato lanciato un allarme e da qui è subentato la parola di Frontex diciamo è diversa nel senso che Frontex ha detto che comunque c'era questa imbarcazione e che poi dopo i soccorsi e gli aiuti spettano al paese diciamo di destinazione spettano se viene considerato una situazione diciamo di pericolo di pericolo questa situazione non c'era ma è evidente che non c'era nel senso è stato confermato e da qui a Zerzo martedì e mercoledì vedremo che cosa dirà più antedosi cioè il governo ha agito subito sulla vicenda è andato lì è partita subito una comunicazione anche con l'Europa ieri c'è stata una riunione dei ministri del Med 5 che si occupa di questo a Malta ricordando bene quali debbano essere anche i compiti di questa agenzia europea che poi alla fine paghiamo tutti quindi io non credo che sia stato un deficit di comunicazione il premier è dovuto andare in una missione importante in India parlando anche di immigrazione perché il nodo geopolitico si risolve anche con questi grandi attori internazionali quindi io questo deficit non l'ho riscontrato martedì e mercoledì per antedosi palderaccio l'inchiesta ma la procedura mi sembra abbastanza chiara purtroppo questi eventi ai noi accadono e diciamo il sillogismo più partenza cioè più persone stanno in mare più la casualità aumenta di incidenti del genere purtroppo è una casistica sulla quale insomma dobbiamo fare i conti sulla valutazione invece politica insomma da questo punto di vista sia per quanto riguarda il centrodestra che il centrosinistra oggi leggevo Antonio Polito insomma su questo nuovo bipolarismo che c'è adesso in questo nuovo sistema politico dopo la vittoria di Elislein e ci entreremo nell'argomento dove praticamente i due poli si rinfacciano un po' tra di loro le stragi non è esattamente un buon inizio di nuova fase di terza repubblica quarta repubblica come la vogliamo chiamare non è un buon inizio ma era prevedibile che succedesse una cosa del genere è chiaro che con un governo molto schiacciato sulla destra la tendenza è quella a polarizzare dall'altro lato e in questo momento il fatto che Elislein sia diventata segretario del partito democratico in qualche modo influenza ulteriormente questo tipo di dinamica quindi mi sembra un qualche cosa di prevedibile certamente quello spazio al centro che si riteneva ci potesse essere che lo stesso Matteo Renzi e Carlo Calenda con il gruppo del terzo pollo ritenevano ci fosse in realtà in questa dinamica sparisce un po' ecco e anche nel racconto e nel contrasto politico dei fatti di questi giorni appunto anche il naufragio le richieste di dimissioni sono venute in particolare da un lato dell'opposizione quindi Movimento 5 Stelle Partito Democratico con questa nuova guida vedremo se questo sarà un bipolarismo che porterà poi effettivamente a uno svuotamento di quel bacino di centro che sembrava dovesse in qualche modo invece riempirsi di nuovo e invece ecco quantomeno rispetto alle tendenze di comunicazione non sembra essere così nel merito sulle dichiarazioni poi vengo sul merito poi sulle dichiarazioni di Giorgio Meloni ma io ho condiviso molto quello che diceva Tondelli mi è sembrato un commento sui commenti credo che come giustamente dice Meloni nessuno crede che ci sia stata volontarietà molti pensano che ci sia stata negligenza dello spazio al centro magari adesso l'assenzionismo si sposterà diciamo dalla sinistra c'è stato il grande assenzionismo a sinistra ultimo alle regionali in questo diciamo magma centrista che rischia di non trovare per rappresentanza sono d'accordo con Giulio da questo punto di vista e poi ci torniamo e invece volevo parlare con Giulio oggi Alessandra Ghisleri collega di Livio Gigiuto sulla stampa e sulla reazione degli italiani c'è un dato che a me ha personalmente sconvolto ed è alla domanda di chi è la prima la domanda su chi è la responsabilità e poi sulla reazione che hanno avuto insomma gli italiani a questa notizia allora la strage dei migranti sulle spiagge della Calabria il 35,9% mi ha colpito ma la vita va avanti e tra qualche giorno l'avrò rimossa dimenticata e messa da parte che già questo dovrebbe far pensare poi il 29,7% mi ha colpito e ci sto pensando in continuazione poi mi ha lasciato indifferente non mi interessa il 12,5% allora su questo c'è poi anche una differenza insomma tra i vari partiti quindi di questo 12,5% il 25% Forza Italia il 16,4% La Lega il 16% Fratelli d'Italia e poi altri dati 12,7% il Terzo Polo su questo e anche sull'interesse che hanno gli italiani su un argomento di questo genere perché se c'è una cosa secondo me terribile tutta quanta questa vicenda magari è un luogo comune ma è proprio l'indifferenza noi dobbiamo distinguere i due sentimenti il sentimento di preoccupazione legato a un dato come questo e il sentimento di sorpresa ci preoccupa molto un dato come questo significa che un italiano su due perché sommando le alternative di risposta sostanzialmente ci dice ci interessa fino a un certo punto perché ci ha colpito il 30% che dicevamo prima più il 12% di differenza siamo intorno al 40 45% quindi quasi uno su due davvero tantissimi e questo ci preoccupa ma ci preoccupa soprattutto quel 12% che mostra proprio disinteresse e di che cosa è conseguenza questo 12% soprattutto della politicizzazione di argomenti come questo cioè della trasformazione di temi sui quali dividersi tra centrodestra e centrosinistra una tragedia come questa questo tipo di sentimento non dovrebbe generarlo però l'altro sentimento cui faceva lei riferimento prima è la sorpresa posso dire che non sono stupito da questo dato perché soprattutto da quel 30% perché la conseguenza di quello che abbiamo visto per anni nella comunicazione italiana nel racconto dei grandi eventi nel nostro paese noi ci siamo dimenticati pian piano di tutto abbiamo una grande rapidità nel sostituire i temi che ci colpiscono molto è successo non su un fatto come questo terribile e che già abbiamo vissuto in altre occasioni questo lo rende ancora più terribile ma succede anche su eventi che sono i cosiddetti cigni neri di Taleb cioè sulla pandemia ne abbiamo parlato radicalmente per due anni ha colpito tutto il pianeta a un certo punto da una settimana all'altra scomparso dai radar lo sai in questo momento quanti italiani hanno paura del covid il 2% il 2% è successo da una settimana all'altra e le dico una cosa anche forse più preoccupante la guerra la guerra che tuttora si svolge in Ucraina tra Russia e Ucraina all'inizio della guerra l'80% ne aveva paura ora solo il 20% ne ha paura era il tema della settimana per il 60% degli italiani un anno fa la differenza non era tantissima più o meno parliamo dello stesso conflitto ora il tema della settimana per il 10-12% forse dobbiamo fare una riflessione anche noi sulla rapidità con la quale sostituiamo i temi che ci colpiscono e di cui ci occupiamo per completezza poi di chi è la responsabilità per gli italiani il 26,2% degli scafisti il 20,5% dei paesi da cui arrivano da cui sono partiti il 19,8% dell'Europa e il 9,1% di tutti i governi italiani negli ultimi 20 anni volevo una valutazione anche da te Jacopo ma vedi diciamo così da un lato io capisco quanto si diceva poco fa perché è vero che dimentichiamo tutto rapidamente dall'altro lato però un conto è non avere più paura della pandemia tre anni dopo e soprattutto dopo il terzo inverno e avendo visto che effettivamente ormai grazie ai vaccini grazie alla scienza gli effetti non sono più quelli di prima un altro conto è che mentre ancora come dicevi tu giustamente il mare sta restituendo i cadaveri c'è questo tasso di diciamo indifferenza però però va detta una cosa non dico a discolpa ma credo a spiegazione complessiva di questo sentimento che sta forse anche nella risposta al sondaggio dopo Andrea che tu citavi perché effettivamente diciamo così Piantedosi commentando gli eventi qualche giorno fa ha rappresentato in maniera diretta io definirei brutale il sentimento di fondo di un'area politica rispetto ai temi ma nella sostanza lunga se noi guardiamo al tempo lungo che abbiamo vissuto in Italia e in Europa i governi di tutti i colori politici e sostanzialmente di tutti i paesi europei un punto lo stanno tenendo ed è un punto comune questo disincentivo al partire e quest'idea che comunque l'immigrazione l'immigrazione che parte in quel modo va combattuta a molti costi soprattutto per chi parte è un'idea e una pratica condivisa condivisa e lo vediamo ogni volta che poi i migranti passano il confine e arrivano in Francia per fare un esempio diciamo non proprio casuale ora è chiaro che quando tu qui non entro nel merito della scelta politica sto raccontando quello che è successo in questi decenni secondo me quando tu nella pratica queste politiche appunto diciamo il mio sbarrimento Jacopo sta anche nel fatto della storia insieme qui stiamo parlando di un caicco che è partito quattro giorni prima quattro giorni prima dalle coste turche ha attraversato praticamente il Mediterraneo e si va a schiantare a 100 metri dalla costa capito che è una storia da questo punto di vista diciamo purtroppo ne abbiamo vissute tante di tragedie ma come queste ne ricordo veramente poco no no ma tu hai ragione dal punto di vista proprio dell'intreccio e degli elementi fondamentali è una storia particolarmente drammatica agghiacciante struggente anche diciamo non voglio usare termini lirici per renderla un episodio narrativo perché purtroppo è cronaca è cronaca drammatica hai ragione però resta il fatto che poi nel sedimentarsi anche della storia più tremenda secondo me conta l'ambiente sociale e diciamo così l'ambiente interiore che si è costruito negli anni e nei decenni con le politiche e con le narrazioni e l'ambiente è quello che dicevamo prima volevi aggiungere qualcosa Antonio? perché volevi al ragionamento che faceva Jacopo concordo con Jacopo e aggiungo il ragionamento che ha fatto Jacopo sull'Europa con la responsabilità e quindi con la condivisione di fatto del problema immigrazione è a un risultato del Consiglio Europeo quindi gli stati nazionali non è tanto la commissione è un argomento degli stati nazionali che su questo sono concordi ma aggiungo pure le parole di Mattarella che sono state forse poco raccontate in questi giorni quando lui dice le parole di Mattarella a Crotona prima durante il giorno diciamo la notte della strage l'indomani lettere Giorgio Meloni all'Europa e le parole di Mattarella rimuovere le cause alla base dei flussi dei migranti questo che cosa vuol dire che rispetto ha la grande ondata emozionale della crisi siriana 2015 quando la grande accoglienza con tutte anche però diciamo le strutture dei problemi poi di natura interna che questa massa diciamo di migranti comporta oggi il ragionamento è diverso bisogna portare l'Europa nel Nord Africa l'Europa nei contesti asiatici perché l'unico modo per compensare e cooperare con i paesi diciamo di provenienza terzo quarto mondo il problema indicatorio perché è chiaro che è cambiato il paradigma da questo punto di vista prima si pensava che si potesse accogliere tutti poi si è andati sulla logica un po' repressiva porti così adesso la fase 3 e su questo devo dire che il governo mi sembra abbastanza innovativo è appunto il rapporto con i paesi del Nord Africa il rapporto con l'India con gli Emirati Arabi Uniti c'è un'idea di cooperazione internazionale di grande cooperazione internazionale i grandi attori stanno agendo agisce la Russia agisce la Cina l'India vediamo anche come agiscono anche dal punto di vista di rapporti un po' torbidi se lo fa l'Europa e si pone come comunità europea questo argomento questo principio questo vettore probabilmente il problema potrebbe essere non dico risolto alla radice ma sicuramente compensato però diciamo che nel frattempo poi ci sono tutte le barche che comunque partono diciamo e la gestione dell'ora è oggi insomma su un tema come questo però ecco il dato politico che volevo insomma un giro rapido per tutti quanti è anche legato al racconto insomma il premio Noni parlava appunto di racconto nell'area diciamo di centrodestra su un tema come quello dell'immigrazione che sappiamo benissimo insomma ne abbiamo accennato anche ieri mattina sul fatto che soprattutto nel governo gialloverdi da quello che ricordiamo insomma l'esperienza di Salvini i porti chiusi e cose di questo genere c'è la visione secondo voi da parte vostra della minoria di un nuovo racconto su un tema come questo o c'è il pericolo poi lo chiederemo anche a Gigliuto di un rincorrere su un tema come quello da parte di un partito che comunque ha un vantaggio ce lo dirà poi Gigliuto insomma molto più consistente rispetto alla Lega ma io ho l'impressione che Fratelli d'Italia stia un po' cercando di sostituirsi come interlocutore rispetto a questo tema lo si è visto in particolare io ho trovato molto interessanti però Fratelli d'Italia in questo momento si trova in una posizione di estrema forza come elettorato su un tema come questo è giusto rincorrere Salvini su quel tema? io ho l'impressione che non lo stia veramente rincorrendo ma che stia provando a sostituire la narrazione della Lega in tema migratorio e questo lo dico a fronte per esempio delle dichiarazioni di Lollo Brigida nel corso della settimana in cui il ministro dell'agricoltura che normalmente non parla di tematiche di questo tipo si è inserito in modo molto pesante sul tema ha addirittura ipotizzato 500.000 persone in arrivo in modo lecito con delle cifre che hanno spiazzato anche lo stesso Piantedosi che poi in audizione alla Camera si è ritrovato a dover un po' giustificare questi numeri dicendo io non ho parlato con Lollo Brigida ma sì sommando una serie di numeri forse questo è il risultato ecco io ho l'impressione che a fronte del chiamiamolo così pasticcio comunicativo di Piantedosi in particolare su questo caso con dichiarazioni improvvide anche poco sensibili rispetto all'entità della tragedia Fratelli d'Italia stia un po' provando a correre ai ripari sostituendosi sostituendo le sue figure di riferimento su questo tipo di tema cercando di sottrarlo all'alleato leghista e volevo sentire prima Antonio su questo e poi Jacopo e chiudo con lo dicevo prima c'è un'opzione politica il piano Mattei è esattamente esattamente questo cioè non potendo anche nel rapporto con l'Europa non volendo ripercorrere quel tipo di contrasto muscolare con l'Europa con le corti di giustizia con la stessa manifestazione italiana l'idea appunto è diversa cioè portare un nuovo protagonismo dell'Italia ok nei suoi diciamo con i suoi interlocutori nordafricani diciamo di prevalenza ma lo stesserebbe portare questo contesto in Europa in Consiglio Europeo è successa una cosa diciamo dal punto di vista politico enorme è entrato il tema della difesa comune dei confini marittimi come principio europeo questa è è uno scarto in avanti rispetto a una stagione giollo verde in cui magari il ministro dell'Intento non si presentava nei dibattiti europei nei consigli europei perché questa roba qui non era molto interessante si preferiva diciamo un rapporto molto populista demagogico da questo punto di vista questo è uno scarto in avanti ed è molto significativo che anche l'Europa sia venuta dietro a un principio che parte da un governo diciamo di destra in Italia e quindi vuole far vedere questo tweet perché proprio su questo ragionamento se lo possiamo far vedere questo è un tweet vecchio che ha ripostato Matteo Renzi in settimana anche sul tipo di approccio e di ragionamento che la Meloni ha sempre fatto su un tema come quello dell'immigrazione non so se la regia ce l'ha pronto così lo mostriamo non è pronto va bene comunque è l'attacco e anche la critica molto dura che ha fatto la Meloni dovrei avere qui la pagina relativa al tweet eccola qua l'ho trovata perché Matteo Renzi l'ha riproposta era del 2015 era un naufragio sulle coste della Libia e l'accusa molto dura praticamente di responsabilità dava praticamente degli assassini la Meloni al governo anche su questo il cambio di approccio era l'opposizione dell'allora era un'opposizione molto molto dura c'è anche un cambio di passo della Meloni su questi argomenti su questi temi o anche una presa di coscienza diversa rispetto a quegli anni la stagione è diversa le concause diciamo di questa crisi migratoria sono diverse ma poi chiaramente l'opzione di governo cambia tutto nel 2015 era un partito diciamo in formazione era nato da poco e stava cercando appunto il suo posto nel mondo oggi è una forza di governo e agisce diciamo di conseguenza cioè non mi stupisce questo oltretutto sentendo i toni adesso purtroppo dell'opposizione si è parlato di strage di Stato cioè è chiaro che se facciamo un processo diciamo i tweet non diciamo più Andrea Greti su cosa aveva vinto le elezioni la Lega per cercare di capire cosa sta succedendo dobbiamo capire come si è votato il 25 settembre la Lega ha vinto le elezioni qualche anno fa sul fenomeno migratorio sulle posizioni molto nette sull'immigrazione Fratelli Italia non ha vinto le elezioni sull'immigrazione in campagna elettorale è stato molto chiaro il tema Giorgio Meloni voleva rappresentare una novità che risolvesse il tema dello scontento economico che era chiaramente il tema principale della campagna elettorale non molto vivace in generale però c'è stata di fine anno in questo momento Giorgio Meloni sta facendo sostanzialmente quello che un po' si era capito in campagna elettorale sulla politica estera la politica internazionale modificare per quanto possibile poi è chiaro un posizionamento politico talmente netto che è difficile che sia proprio radicalmente così però proseguire più o meno nella linea internazionale del suo predecessore perché forse la politica estera è quella sulla quale vediamo più chiaramente il rapporto tra governo Draghi e governo Meloni davvero ci sono molte somiglianze sulle posizioni magari sull'immigrazione con sfumature naturalmente diverse però è chiaro che non è su questo che è vinto la campagna elettorale e questo ci spiega bene perché adesso le posizioni di Giorgio Meloni su questo tema non siano così politicamente diciamo ammiccanti alla base tradizionale del centrodestra ma siano molto più sfumate anche perché in questo momento gli italiani come a settembre l'anno scorso hanno decisamente altre priorità quando chiediamo agli italiani in base a cosa votano qualche anno fa molti dicevano soprattutto elettori centrodestra in base a come vogliamo gestire la migrazione adesso invece quasi tutti dicono in base a come vogliamo gestire la crisi economica quindi è chiaro cambiano le priorità cambiano le posizioni allora tra poco tra l'altro su un tema come quello dei migranti insomma il fronte largo fronte insomma del centro-sinistra sta cercando anche un modo per ricompattarsi per adesso sicuramente nella critica a Giorgia Meloni però in passato insomma abbiamo fatto riferimento al governo gialloverde diciamo le idee non erano esattamente in linea parliamo di questo campo largo di questo campo progressista che si potrebbe ricompattare in questa fase a rientro della pubblicità pochi minuti è l'istantanea nel retropalco la foto di gruppo dell'incontro tra Schlein Conte e Landini che ruba la scena politica alla giornata il primo filo simbolico di un rapporto tutto da tessere che sembra chiudere il grande gelo calato tra PD e 5 stelle dopo la caduta del governo Draghi sul palco scorrono gli interventi di studenti genitori e sindacati di base promotori della manifestazione di Firenze a difesa della scuola e della Costituzione e per l'antifascismo dopo l'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi di destra di fronte al liceo Michelangelo lì davanti sfila il corteo affollatissimo 40.000 persone secondo gli organizzatori che già alla vigilia assume una valenza nazionale e politica aderiscono i sindacati nazionali guida il corteo Maurizio Landini che contesta la critica del ministro dell'istruzione valditara alla preside che aveva evocato il rischio fascismo che sfila anche lei ma il senso politico è l'incontro tra Giuseppe Conte afflaudito al suo ingresso da tempo in piena sintonia con la CGL e la neosegretaria PD Elish Line oggetto di curiosità e di cori di incoraggiamento che con la sua presenza riposiziona a sinistra il suo PD e sceglie di presidiare battaglie storiche come la scuola pubblica la costituzione e l'antifascismo spazi nei quali di fronte ad un PD paralizzato dal clima congressuale si era allargato anche Conte insieme ai protagonisti sono cambiati gli equilibri di certo l'opposizione con questa convergenza può cambiare segno e trovare più forza contro un governo contestato su più fronti sono felice che ci sia qui una grande delegazione del Partito Democratico che ci sia qui il Movimento 5 Stelle che ci siano altre forze civiche della sinistra ecologista credo che sia un bel segnale che su alcune battaglie fondamentali come abbiamo sempre detto noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese per organizzare bene l'opposizione noi ci saremo Conte saluta la novità ma rivendica gli spazi il problema non è il primato e le leadership della sinistra a noi come Movimento 5 Stelle interessa lavorare per rafforzare l'azione politica di forze progressiste se col nuovo vertice e PD questo dialogo rafforzerà questo orizzonte ben venga per tutta l'Italia nel paniere c'è anche il dialogo con la CGL Landini accoglie e abbraccia ma non firma cambiali in bianco per il cambio di passo del PD noi siamo un sindacato democratico che vuole rappresentare le persone che vuole delle risposte e siamo pronti a confrontarsi alla pari con tutte le forze politiche sia di opposizione che di governo quello che noi poniamo è che i problemi della gente tornino ad essere l'oggetto anche di chi fa politica eventuali rivalità forse arriveranno di sicuro non è oggi né questa piazza il terreno che può dividere all'orizzonte resta il tema Ucraina il nostro sostegno non è in discussione dichiara la Schlein ma l'azione diplomatica deve farsi più concreta la pace resta un tema posizione tutta da definire oggi strette di mano a favore di telecamere c'è Conte c'è Schlein la novità c'è Fratoiani c'è la sinistra che lavorava per questo dialogo è quella che in questo spazio si muove manca calenda c'è una delegazione di Italia Viva ma lontana da questa foto di gruppo in servizio di Mariella Resta che ieri ha seguito per il Tg della 7 la manifestazione di Firenze do il buongiorno e sono contento che è tornato a trovarci Domenico De Masi professore direttore della scuola di formazione del fatto quotidiano buongiorno prof buongiorno buongiorno allora intanto volevo dire ha scatenato l'ennesimo polverone l'ultimo polverone che aveva scatenato ha fatto cadere un governo praticamente mi riferisco a giugno l'ultimo diciamo che è un po' residuale rispetto a quello ed è il suo appoggio diciamo ad Elie Schlein che ha fatto storcere il naso a quelli del Movimento 5 Stelle stupidi se hanno storcito il naso dovevano andare a votare anche loro per la Schlein e forse magari l'hanno fatto lo chiediamo anche a Gigiuto dopo ma non c'è dubbio nella fila in cui ho votato c'erano almeno tre persone del Movimento 5 Stelle perché bisogna costruire quant'era lunga la fila mi chiede Gigiuto così facciamo una proporzione era molto lunga era a Piazza Farnese ed era molto lunga sì sì c'è la possibilità di costruire anche il proprio alleato c'è la possibilità di costruire perfino il proprio nemico quindi quando c'è un'occasione come questa in cui il PD consente di votare a tutti beh perché non profittarne per avere come interlocutore nel PD una persona sicuramente più adatta a interlocuire che non l'altro candidato io credo che tutta la sinistra doveva andare a votare per la Schrein allora adesso analizziamo diciamo della giornata di ieri la valutazione politica poi nel merito della manifestazione ci entriamo più tardi perché allora abbiamo visto anche dal servizio parto da Giulia Merlo su questo primo dialogo manifestazione della CGL indetta e poi appunto ci torniamo sulle motivazioni dopo che c'era stata insomma la rissa possiamo definirla così o comunque l'aggressione nei confronti degli studenti del liceo del liceo da Vinci manifestazione antifascista richiamo fortissimo della CGL che a sinistra è comunque sempre un interlocutore principale diciamo che sulle basi ci siamo c'era diciamo tutto il quadro del centro-sinistra che c'è adesso tranne azione Italia Viva diciamo un po' più laterale dopodiché ci sono una serie di nodi infiniti tra la guerra e anche diciamo il posizionamento sul mercato del lavoro anche se la Schlein insomma ha detto che va rivisto il job act allora fino a qua diciamo la sinistra piace giocare facile poi arrivano i nodi e la domanda è doppia noi che abbiamo visto due alleati o due concorrenti ieri tra Conte e Schlein allora io credo che abbiamo visto due futuri concorrenti ecco probabilmente in questa fase possono ancora marciare uno vicino all'altro la manifestazione di ieri è stata un momento molto più utile per Schlein che per Conte io ieri ero a Firenze e il contesto in cui lei si è mossa è un contesto di enorme entusiasmo da parte del popolo di centro-sinistra che l'ha accolta molto bene con grande curiosità ma anche con grande interesse e slancio quindi sicuramente è stata una buona vetrina per la prima uscita pubblica da segretaria del PD che mette un tassello importante rispetto a dei temi che sono sempre stati molto identitari rispetto al futuro che era quello che chiedevi tu certamente Schlein così posizionata occupa uno spazio che era quello che si è conquistato Conte qualche mese fa alla manifestazione se diciamo le stime un tanto al chilo mi rendo conto che non sono sempre utili però certamente l'interesse l'entusiasmo era tutto intorno a Schlein Conte con un piccolo drappello diciamo che non fosse altro perché era la novità che incarnava questo desiderio però ha risposto a una necessità di quella piazza che fino a qualche mese fa trovava in Conte un interlocutore quindi lei probabilmente oggi è alleata domani rischia di essere rischia intendo dire per il Movimento 5 Stelle una concorrente feroce rispetto ad alcuni temi che in questo momento ha forse più caratterizzato il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico quello dell'ex segretario Gianni Enrico Letta Jacopo come l'hai vista ieri questa fila Landini Conte Schlein ma l'ho vista per il momento davvero come un'ipotesi in un contesto molto favorevole perché adesso è vero che ci siamo un po' abituati e disabituati a tutto però è anche vero che per la capa o il capo di un partito di sinistra essere accolti bene da una piazza antifascista dovrebbe essere ancora la normalità le basi diciamo sì diciamo proprio le basi adesso è chiaro concordo con Merlo e penso che sia ovvio che è così il bello inizia adesso il bello inizia adesso e per Schlein la giornata di ieri la location di ieri era anche la più facile e adeguata nel senso anche per il suo profilo per la forza sociale che l'ha portata a vincere le primarie è chiaro che lei gioca fuori casa più ci si allontana da quella piazza e da quella storia e quella sarà una sfida sarà una sfida grossa per lei per il partito che ha in mente anche per il rapporto con quei pezzi di società che non la seguono a prescindere insomma la sinistra e non da oggi e vengo dal mio giugliuto perché è arrivato preparato anche questa domenica con i suoi cartelli e partirei appunto dal cartello 2 e quindi dalla sorpresa la domanda è proprio specifica in che misura è rimasto sorpreso dai risultati delle primarie del partito democratico e possiamo vedere i dati beh sono rimasti sorpresi ovviamente in tanti la maggioranza degli elettori in generale ma questo ci sta ma anche la maggioranza degli elettori però diciamo che molto e abbastanza al 50% quindi diciamo c'era uno stupore più o meno a metà soprattutto tra gli elettori anche degli altri partiti quando andiamo solo tra gli elettori del partito democratico e del centro-sinistra raggiungiamo quasi un 60% di persone sorprese ma lo sappiamo probabilmente anche nell'entourage stesso almeno così si dice di Elis Lane c'è stata anche un po' di sorpresa giustamente ha detto non ci hanno sentito arrivare anche molti di loro diciamo non si aspettavano questo risultato quindi non era assolutamente scontato insomma questo è evidente anche nella mente dell'opinione pubblica l'effetto però è stato un effetto positivo o negativo la cosa interessante è che noi abbiamo fatto un sondaggio prima e dopo quindi prima delle primarie abbiamo detto ma migliorerà il PD dopo le primarie e la maggioranza degli elettori diceva no resterà uguale dopo il risultato quindi dopo la vittoria di Elis Lane a prevalere come vediamo il dato di questa settimana anche se voglio dire in tanti pensano ancora ma insomma non cambierà nulla non ci sarà una rivoluzione però a quel punto vediamo che invece tanti hanno detto effettivamente vediamo il cartello numero 3 le primarie del partito democratico secondo lei il partito democratico da queste primarie come ne esce non è c'è tantissima fiducia insomma questo è l'elettorato generale rafforzato tra l'elettorato generale mentre l'elettorato del partito democratico del centro-sinistra uno su due penso uscirà rafforzato visto il contesto il periodo da cui veniva il centro-sinistra non era scontato insomma che la potessero pensare in questa maniera abbiamo anche testato la leadership quindi la fiducia adesso ci arrivo perché su questo proprio per introdurre il tema si è molto detto insomma di queste due figure di queste due donne Giorgia Meloni ed Ellie Schlein è un po' la come posso dire la rivincita della politica come identità cioè della politica in questo senso proprio per essere diciamo potremmo dire la sconfitta di quella ricerca del centro che tanto in politica soprattutto negli ultimi anni in Italia c'è sempre cercato ma in qualche modo di tornare un po' alle origini allora la sconfitta del centro se per centro intendiamo il governismo per il governismo per il governo ed è quindi la grande sconfitta del PD proprio negli ultimi anni è stata questa diciamo dell'area moderata ma anche proprio l'idea che bisognava governare a tutti i costi ecco quella roba quindi i governi di sospensione tecnici di internazionale quella roba lì è finita le due figure polarizzano molto è chiaro ha dato diciamo la partenza in pole position dal centrodestra da Giorgio Meloni anzi data la destra della Meloni rincorsa adesso diciamo tortocollo dal PD perché ricordiamone qui insomma Giliudo sicuramente ci potrà dare una grande mano da questo punto di vista il PD aveva fatto un'altra scelta la classe dirigente del Partito Democratico era andata su un altro sull'ennesimo uomo si diciamo che la classe dirigente del Partito Democratico si è proprio spaccata proprio spaccata però la prima parte delle primarie aveva vinto Bonaccini fra gli iscritti fra la base fra gli iscritti però diciamo che le due principali figure del Partito Democratico insomma l'uso di capi bastone è un uso che facciamo frequentemente insomma noi addetti ai lavori ma comunque i capi corrente più importanti penso Andrea Orlando e Dario Franceschini comunque appoggiavano la mozione Schleich però diciamo che la base aveva i circoli assolutamente hanno optato per l'ennesimo per l'ennesimo uomo al comando poi avrebbe detto ah ma questo sarà l'ultima volta la prossima volta dovrà non avere una donna al comando vabbè è andata così invece gli elettori diciamo alla base proprio quella elettorale che non aveva forse votato PD alle ultime elezioni ha reagito in maniera muscolare per ciò che riguarda l'identità non sono parzialmente disaccordo perché c'è una frattura ben identificata da veneziani qualche anno fa comunitari liberal ecco diciamo che Giorgio Menoni rappresenta perfettamente i comunitari radicatissima nella sua città nella coscienza nazionale insomma i valori diciamo della destra sono preponderanti in questo momento dal punto di vista politico la Schleich non rappresenta tanto l'identità diciamo per chi non l'avevi si è eletto poi i veneziani è un po' anche il dualismo che c'è negli Stati Uniti tra mondo conservatore possiamo dire così e mondo libera la Schleich non viene diciamo dalla tradizione dalla tradizione della sinistra sinistra identitaria è appunto la sinistra liberal che è un'opzione diciamo abbastanza eterea che circola molto diciamo fra le redazioni fra l'engagement diciamo delle grandi comunità diciamo di incentivazione politica vedremo se sarà maggioritaria infatti leggevo un comunista come Rizzo che diceva antifascismo elettorale no? perché l'opzione è quella di recuperare un po' di consenso ho letto anche l'appassionante divisione tra i fondazioni comuniste e comunisti italiani quindi si vendrà da questo punto di vista andrei avanti professor De Masi come la vede questo dualismo tra la Meloni e la Schlein? la vedo benissimo perché si tratta di due donne quasi coetanee e in posizione proprio smaccatamente opposte a me piacciono le contrapposizioni nette non piacciono gli inquinamenti che ci sono stati negli ultimi anni le ammucchiate tutti insieme appassionatamente ma rifacciamo pure la legge elettorale però professore sì però io credo che così ci si arriva ci è arrivata la destra la destra ha messo insieme tre destre che sono andate separate nel periodo preelettorale e poi al momento delle elezioni si sono messe insieme pur avendo delle diversità noi abbiamo tre sinistre che sono quella del PD molto radicata nella borghesia ma questo è importante perché la borghesia se non vota il PD vota a destra e poi c'è tanto precariato anche nella borghesia e poi abbiamo il Movimento 5 Stelle che negli ultimi tempi si è molto radicato nel proletariato e nel sottoproletariato e poi abbiamo una terza sinistra costituita da una miriade di gruppi a sinistra del PD i quali danno quell'animo movimentista che è importante in un'attività politica ma io mi chiedo ieri ci sarebbero stati tutti insieme Fratoianni Landini Conte Lashlein se alla segreteria del PD ci fosse stato ancora Letta o ci fosse stato Bonaccini io credo di no quindi stiamo vedendo già i frutti finalmente la politica entra nella società e spiazza l'economia finalmente una contrapposizione tra destra e sinistra ci fa ritornare la politica al primo posto e questo è un bene per il paese Allora vediamo come delle due leader insomma come la vedono come la vedono gli italiani e partiamo dal cartello 4 partiamo quindi dalla Shlein Allora Lashlein e Giorgia Meloni sono effettivamente due leader allo specchio cioè sono esattamente lo stesso leader di due coalizioni completamente diverse di due orientamenti politici completamente diversi come diceva giustamente il professor De Masi prima sono veramente una contrapposizione radicale sono l'una all'opposto dell'altra e infatti vediamo che polarizza moltissimo come si diceva anche prima diceva prima Antonio Rapisarda polarizza moltissimo l'ishline significa che piace solo al 20% degli elettori di centro-destra piace al 75% quasi 80% degli elettori di centro-sinistra è praticamente la stessa cosa che succede con Giorgia Meloni e che invece non succedeva con Bonaccini che piaceva anche un po' all'elettorato di centro-destra aveva circa un 40% di consenso nel centro-destra quindi è evidente che erano due leader diverse e due scelte diverse ma attenzione a non recintare a non creare un recinto attorno alla segreteria alla leadership di l'ishline perché faremo l'errore che abbiamo già fatto con Giorgia Meloni negli anni precedenti e cioè immaginare che Giorgia Meloni leader di destra di destra netta perché ne fa vanto diciamo quella è la sua posizione politica non possa dialogare con gli elettori con gli altri elettori del centro-destra o rappresentarli perché questo non è detto che sia così possiamo vedere un attimo il cartello perché se io fossi nell'ishline in questo momento mi preoccuperei della seconda riga del cartello se possiamo farlo rivedere ancora che è quella anagrafico perché quelli diciamo gli elettori possiamo dire così che hanno più di 54 anni sono maggioranza rispetto sono di più rispetto a quelli tra i 18 e i 34 anni a me stupisce molto ma qui dobbiamo anche andare contro alcuni racconti che ci creiamo per semplificare la realtà non c'è nulla di male semplificarla fa parte della vita però sia elish lane che giorgia meloni sono leader generazionali in termini anagrafici cioè sono giovani ma entrambe non sono leader generazionali perché non sono leader della loro generazione giorgia meloni piace moltissimo agli over 54 soprattutto agli over 54 di destra esattamente come l'ish lane piace moltissimo alla sua generazione alla generazione over 54 degli elettori di sinistra perché perché rappresentano quella radicalità che un po' negli anni queste due basi elettorali avevano perso e per questo questo è anche un po' un segreto del loro successo rinchiuderli nella loro svegliati dal torpore diciamo così ma il magma del governismo e le dico di più anche rappresentarle come leadership di genere è sbagliato perché sia l'ish lane che giorgia meloni piacciono in maniera trasversale ai loro elettori naturalmente di genere maschile e genere femminile vediamo anche giorgia meloni per completezza l'abbiamo insomma accennato anche in questa parte però così vediamo che tra l'altro è anche in aumento siamo passati dal 49 al 50% è chiaro che la polarizzazione la aiuta eleggere un leader che non parla ai suoi elettori per giorgia meloni è una cosa in qualche modo positiva più si polarizza il dibattito e più il centro del paese si divide tra le due categorie e le due leadership rappresentate era improbabile che vincendo un leader molto lontano da giorgia meloni che non combatte che non entra in competizione per lo stesso elettorato giorgia meloni perdesse consenso anzi si rafforza Jacopo Dondelli una valutazione politica visto che la prossima tornata elettorale quella diciamo consistente è fra un anno quindi parliamo dell'europea il compito dell'ashline sarà quello di tenere unito un partito che magari in questo momento è in ricostruzione però c'è una fetta molto importante insomma quello che diceva prima anche il professor De Masi di elettorato borghese popolo delle partite IVA come lo possiamo definire Gigiuto meglio cioè tutto quel mondo insomma quel ceto medio una volta l'avremmo chiamato ceto medio chissà se lo è ancora che magari guarda o guardava diciamo a Bonaccini come punto di riferimento tutta quell'area là Bonaccini ha già detto che non entra in segreteria però diciamo che la possibilità sia quella di una Bonaccini diciamo presidente le sirene del terzo polo sono così forti secondo te? Allora io sulle sirene del terzo polo sono sempre stato abbastanza scettico forse ricorderai ne parlamo qui prima delle elezioni in Lombardia quando si parlava di Letizia Moratti di Letizia Moratti come un cavallo vincente espressi perplessità diciamo così per una volta ci presi e parlavamo parliamo di una regione la Lombardia che è sempre stata negli ultimi anni più generosa con questo tipo di esperimenti da Monti all'ultima volta alle politiche con il terzo polo quindi io tutto questo movimento poi al centro non c'è certo una leadership e le scelte come quella di Schlein dovrebbero in teoria aprire degli spazi lì però sono sempre spazi marginali sono sempre spazi marginali quello che invece io credo sia interessante da capire è quanto Schlein riuscirà a tenere e anche a crescere fuori dai centri urbani fuori dalle città soprattutto delle città medio e grandi dove ha costruito anche la sua vittoria al voto diciamo delle ultime primarie perché è lì che in città come la mia come Milano a Roma ha preso tanti tanti voti e quello è voto di pura opinione e sappiamo già sono gli stessi posti in cui il PD va bene o molto bene ancora una volta penso a Milano ma tanto più va bene a Milano tanto male va tanto più va male da appena fuori da Sesto San Giovanni in poi dove diciamo dove non raccoglie diciamo quel consenso ZTL che abbiamo definito tante volte il rischio che si polarizzi questa dinamica oggettivamente un po' c'è in questa traiettoria e quindi sarà la sfida vera da vincere però forse fa parte anche di quella complementarietà con il momento 5 Stelle che diceva prima De Masi finché dura devo andare in pubblicità poi rientriamo e parliamo anche delle motivazioni che hanno portato tanta gente in piazza si parla di 40.000 persone ieri a Firenze pochi minuti e torniamo torniamo in diretta abbiamo analizzato insomma nel blocco precedente quella che è stata diciamo il dato politico della manifestazione ieri di Firenze adesso in questa parte invece le motivazioni che hanno portato tanta gente a sfilare ieri a Firenze insomma abbiamo parlato dell'aggressione che c'è stata da parte di gruppi studenteschi di destra nei confronti di studenti diciamo di sinistra e che poi ha portato la lettera della preside che era presente in piazza ieri le parole di Valditara e poi dunque la manifestazione però ieri insomma ci sono state parecchie manifestazioni una di queste tra l'altro è sfociata anche in violenza unisco le due cose perché poi gli argomenti alla fine possono essere anche in qualche modo affini ieri per cospito a Torino sono scesi in piazza gli anarchici possiamo vedere anche le immagini insomma di scontri ci sono stati parecchi un paio di agenti sono rimasti feriti dagli scontri che ci sono stati insomma con i manifestanti più fascinorosi e poi per tornare invece diciamo alla scuola c'è stata un'altra manifestazione ieri a Padova oggi lo pubblica anche Repubblica a pagina 4 e pagina 5 degli studenti insomma di blocco studentesco la scuola non è antifascista è libera e con un altro insomma manifesto anche abbastanza ovviamente da condannare l'hanno fatto anche molti esponenti anche dell'area insomma dell'opposizione da parte di anarchici che hanno mostrato le foto di Valditara e della Meloni diciamo a testa in giù il commento è stato molto duro insomma da tutto quanto l'arco parlamentare allora il giro che volevo fare ovviamente è un argomento diciamo di quelli di quelli tosti però volevo partire dal professore De Masi su sia le motivazioni della festa che sia su quanto riguarda il clima che c'è nel paese da questo punto di vista c'è un ritorno diciamo si è tanto parlato soprattutto per quanto riguarda la guerra d'Ucraina che pochi si sono mossi per andare in piazza adesso diciamo le piazze si stanno riempendo gli argomenti sono separati sono diversi però da questo punto di vista diciamo c'è un fremito un fremito nuovo e soprattutto per quanto riguarda le scuole lei che opinione si è fatto? Ma la vera novità è stata l'avvento della destra al governo questo questo ha cambiato tutto lo scenario questo evento ha cambiato completamente lo scenario intanto bisogna tener conto che le destre al governo sono tre è un caso unico in Europa di tre destre e quando sono tre le destre almeno una è costretta a essere estremista c'è poco da fare quindi quell'avvento delle destre al potere ha determinato poi un cambiamento di rotta nel rapporto tra economia che era stata al primo posto nell'agenda degli ultimi anni alla politica che finalmente ritorna ritorna la contrapposizione radicale tra destra e sinistra quell'opposizione radicale a cui Piero Bevilacqua aveva dedicato uno splendido libro da quel momento in poi è chiaro che la contrapposizione emergerà sempre di più l'arrivo poi della Schlein non fa altro che confermare questa contrapposizione sono contrapposte le due leader sul problema del progresso soprattutto e sul problema della globalizzazione due posizioni radicalmente opposte basta leggere la biografia molto interessante della Meloni e leggere la biografia altrettanto interessante della Schlein una global e una nazionalista quindi due posizioni completamente diverse il problema è questo io spero che non avvenga quello che è avvenuto in Brasile io la cittadinanza Rio de Janeiro conosco molto bene quel paese in quel paese il primo anno di Bolsonaro al potere è stato molto molto blando tutti dicevano ma tutto sommato questa destra è quasi uguale alla sinistra precedente poi man mano che passava il tempo invece venivano fuori tutte quelle forze politiche di destra come ce ne sono tante anche in Italia a destra dei fratelli d'Italia che hanno firmato una sorta di cambiale a loro favore con la Meloni l'hanno appoggiata nelle periferie l'hanno appoggiata alle elezioni e ora ovviamente si vogliono riprendere la piazza che è il loro habitat naturale assisteremo sempre di più a questi scontri se si manterranno in una logica diciamo non eccessivamente cruenta anzi non cruenta beh questo comunque è un benessere perché porta a una maggiore forza della politica rispetto all'economia allora parlavo prima delle foto a testa in giù che dicevo della Meloni di Valditara sono del liceo Carducci di Milano non sono riferite a Padova per correttezza però a Milano vado da Jacopo Dondelli su questo pericolo insomma che è evocato anche dalla piazza di Firenze di ieri sul fascismo in Italia no sorriso perché il liceo Carducci è il liceo in cui mi sono diplomato io ormai 25 anni fa quindi vabbè piccole coincidenze ma il pericolo senti io personalmente continuo a non vedere proprio da nessuna parte il fascismo alle porte ma neanche diciamo dietro l'angolo e nemmeno due isolati più in là credo che ci siano ovviamente ci sono sempre state pulsioni estremiste nella pancia della destra come nella pancia dell'estrema sinistra ci sono e ovviamente ovviamente con una leadership politica che ha la storia di Giorgia Meloni ci sono frange che vengono dal passato dal novecento remoto e che vorrebbero trovare una legittimazione in questo spazio politico ma non credo che assisteremo personalmente né a una recrudescenza della violenza politica né a neanche all'evoluzione che prospettava De Masi il professore poco fa in chiave bolsonarista diciamo così di questo blocco politico e del e del suo sostegno anche perché diciamocela tutta viviamo un tempo che se è vero che è bene che si richiariscano i profili della destra e della sinistra ma viviamo un tempo sostanzialmente non politicizzato e non politicizzabile secondo me perché questa è la società in cui viviamo quindi io faccio fatica a vedere che si ritorni perché è un periodo di transizione o perché è un periodo oramai cioè o quella stagione lì è finita e ne deve cominciare necessariamente un'altra quella stagione cioè il novecento le sue categorie le sue appartenenze sono finite sono finite tendenzialmente io credo per sempre poi non vuol dire che sono finite la destra e la sinistra intendiamoci ma tendenzialmente è finita anche l'idea che la violenza politica abbia una legittimità e legittimazione cioè questa cosa in fondo noi ce la dimentichiamo ma quando succedeva allora c'erano discorsi sì di minoranza ma comunque di massa che ritenevano che la violenza potesse diventare uno strumento di lotta oggi così non è più per rifiuto della violenza spererei ma anche perché è passato del tutto nella massa nella maggioranza o in minoranza rilevanti l'idea che si faccia lotta politica per qualcosa e questi elementi che noi a volte deprechiamo e consideriamo depolitizzazione però dobbiamo tenerne conto anche in chiave positiva perché sostanzialmente non vivere più e non avere all'orizzonte un tempo in cui c'è il rischio che la violenza invada le piazze all'improvviso secondo me comunque è positivo Rapisarda partiamo da Tondelli o da Masi o dalla piazza di ieri no parto da Jacopo perché condivido gran parte del suo del suo intervento non c'è alcun rischio fascismo se fosse un marziano che atterro in questo momento noi in questo bellissimo studio e avessi il report dei servizi segreti italiani per capire ma qual è il rischio in Italia in questo momento ecco l'estrema destra diciamo ha un rigo in questo report e poi si parla di pericolo anarchico ora c'è un pericolo anarchico in Italia nel senso che arriverà la dittatura diciamo del proletariato di Bakuni no non c'è nemmeno quello però se mettiamo diciamo in ordine gli addendi vediamo insomma che è totalmente sovradimensionato quello che quello che è stato denunciato a Firenze e qui subentra la responsabilità dell'elite perché insomma se si parla e includo in questo anche la lettera della preside dirò una cosa insomma impopolare non so però la dico cioè non aspettava a una preside ragionare diciamo in termini politici in tal senso io condivido invece la posizione di Val d'Italia da questo punto di vista quando una preside una lettera denuncia diciamo un presunto allarme che non esiste perché non lo dice non lo dice il ministro dell'interno i servizi la questura non esiste questo pericolo è di fatto ma la stessa cronaca ci conferma tutt'altro e quando però una preside ragiona di dividere la comunità studentesca quindi comincia a separare diciamo buoni e cattivi e non più in termini smittiani come diceva il professor De Masi ma in termini proprio militanti ecco là il rischio invece che una piccola scivola ci possa essere sulla violenza politica c'è quindi diciamo l'appello se mi posso permettere di lanciarlo io è appunto quello di depolicizzare questa fase storica cioè io capisco l'esigenza diciamo della piazza del PD di riprendersi un tema che credono performante io poi penso che sia un recinto e non un campo largo l'antifascismo in Italia questo lo vedranno però la responsabilità politica c'è ed è da parte delle elite vorrei tornare un attimo a suzione del Carducci perché per assicurare le tondelli è arrivata diciamo un posto da parte dei rappresentanti dell'istituto del Carducci vorremmo spendere due parole riguardo a ciò che è successo nell'ultimo euro in quanto rappresentanti ma anche soprattutto studenti ci sentiamo di esprimere la ferma condanna rispetto a quanto è accaduto stamattina quindi questa per completezza anche per i rappresentanti dell'istituto perché ovviamente si trovano un po' nell'occhio del ciclone su quello che ha detto Antonio Rabisarda io non condivido sinceramente la posizione ma per una ragione molto banale che normalmente l'antifascismo ecco in un paese fondato su una costituzione antifascista dovrebbe essere patrimonio di tutti non patrimonio di una parte cioè quando si fa la distinzione diciamo ecco l'antifascismo non dovrebbe essere una distinzione mettiamola in questa chiave però scusami per completezza ad esempio ieri soprattutto molti esponenti da parte del centro-destra facevano riferimento a quello che è successo a Bologna cioè l'aggressione che c'è stata abbiamo visto con tanto di video da parte di studenti diciamo di area di sinistra nei confronti di quella di destra e lì c'è stata una sentenza da parte della magistratura c'è un indagino non c'è una sentenza però di fatto c'è un invio a giudizio no credo che ci sia adesso vada a controllare ma credo che già si siano espressi magistrati su questo però le immagini sono abbastanza eloquenti c'è sempre questa cosa del doppio pesismo ecco chiamiamolo così sia in un senso che dell'altro che può pesare in questo tipo di ragionamento ma diciamo che quando si tratta di violenza la violenza la si condanna che sia da una parte o che sia dall'altra questo come dato di fondo io diciamo nella considerazione che faceva il collega mi riferivo più che altro al dato sull'antifascismo che invece è un concetto più generale che evidentemente rispetto a quanto succede nella dimensione studentesca l'insegnamento ai giovani deve essere quello che diceva prima Tondelli e cioè la violenza si condanna sempre e la violenza non è uno strumento politico mai ecco ecco Giulia perdonami se ti interrompo purtroppo però l'antifascismo nella sua storia si è praticato anche purtroppo sulla testa di Sergio Ramelli certo no 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 quindi quello è il punto quindi la scuola quando si parla di scuola la scuola grazie a Dio preesiste vediamo che è sempre una delle vittime insomma di quella stagione ma soprattutto la scuola preesiste all'antifascismo grazie a Dio la scuola si stava già prima quindi la funzione della scuola è educare non è educare l'antifascismo però educare la costituzione che è una costituzione antifascista ma nel senso la scuola è un principio che preesiste come la libertà insomma preesiste l'antifascismo no ma infatti è quella differenza che io penso che la scuola ha dei banchi però scusate io vorrei tornaremo su questo perché lo strisciolo di blocco studentesco io mi riferivo a questo ecco proprio a quello lo strisciolo di blocco studentesco la scuola non è antifascista è libera perché questo potrebbe essere diciamo lo snodo da questo punto di vista sentivo sia Tondelli che il professor De Masi volevano intervenire facciamo prima De Masi Jacopo io sono stato per alcuni anni preside di una facoltà di 15.000 studenti ci mancherebbe altro che non dovessi mettere becco anche sul comportamento politico dei miei studenti occupavano le aule facevano politica tutti i giorni come fa un preside ad astrarre da tutto questo è impossibile è impossibile e d'altra parte è impossibile non essere antifascisti la nostra scuola è antifascista c'è poco bisogna insegnarlo tutti i giorni perché il pericolo fascista c'è sempre se noi guardiamo la storia di umanità è una pratica che in Italia non è stortura non è stortura guardi il primo il primo dovere di un preside è essere antifascista è insegnare ed essere vestale di una politica corretta contro la violenza non c'è nulla da fare io su questo sono netto un preside deve vigilare contro la violenza perché la violenza è comunque qualcosa di patologico nell'ambito di una scuola che deve insegnare la democrazia cioè il confronto verbale il confronto di idee che è benvenuto ma mai il confronto basato sulla forza fisica Jacopo Donnelli mi piacerebbe chiedere ad Antonio e ad altri ma il contrario di antifascista cos'è il contrario di antifascista cos'è è fascista giusto cioè siamo d'accordo no no è il contrario di antifascista Antonio è fascista da questo punto di vista agilettico non ti posso seguire da questo punto stiamo alla logica non te la prendere la logica dice che il contrario di fascista è antifascista siamo d'accordo sull'italiano sì quindi essere antifascisti come essere antistalinisti si può essere democratici senza essere antifascisti Jacopo purtroppo questo è un principio che se non siamo d'accordo su questo è allora va bene se non sei d'accordo con l'italiano col fatto che è fascista è antifascista lo maneggio come te l'italiano allora scusate cerco di uscire cerco di uscire poi ovviamente Antonio si sa difendersi da solo benissimo cioè quello che dice Antonio è come la parola antifascista soprattutto per quanto riguarda il mondo studentesco è stato completamente vuol dire distorto e ha portato poi alle derive che noi tutti quanti conosciamo Jacopo perdonami qua è una pessima diciamo grafica scusate pessima diciamo riproduzione si cambiamo anche il toner alla stampante anche perché vediamo che ci sono problemi studenti del collettivo K1 di Firenze volevano impedire l'ingresso a scuola di uno studente di questi ragazzi di destra coinvolti in questa rissa cioè se l'antifascismo è questo ma non è questo non fare entrare uno studente a scuola ascoltato dalla famiglia leggiamolo bene perché è una pratica che io contesto alla radice non è cretineria cerchiamo di non far casino perdonate la semplificazione cerchiamo di non far casino queste cose vanno condannate queste cose vanno condannate combattute hai ragione ma no 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 l'antifascismo è un valore punto se poi qualcuno in nome dell'antifascismo fa cose sbagliate o criminali lo condanniamo giustamente ma l'antifascismo resta un valore ed è un valore fondante della democrazia perché il fascismo è il contrario della democrazia e la democrazia italiana è nata quando è stato sconfitto il fascismo ok questo dice la storia questo dice la logica questo dice il buonsenso e ricordo a tutti anche a te e chi usa questi toni in questo tempo che non siamo negli anni 70 allora leggo il comunicato che mi ha passato Antonio Abresanto di questo collettivo K1 Alcapponi è presente il responsabile di azione studentesca nonché il principale picchiatore del video diffuso in rete la vita Alcapponi per un fascista non sarà mai semplice dopo avergli provato a impredire l'entrata ascoltato dai genitori che ci riprendevano ponendo i corpi come resistenza e senza abbassarsi la violenza macista abbiamo tenuto la scuola tutto il giorno sotto le canzoni della tradizione partigiana nelle nostre scuole non ci sarà mai posto per il fascismo e violenza ma solo per aggregazione gioco e comunità c'è chi entra a scuola non lo dici nei collettivi ragazzi se non ci mettiamo d'accordo su questo ma questa è la pratica cioè poi alla fine si declina in questo modo e quindi non insegniamo più il valore dell'antifascismo perché qualche scemo fa scemate? no non è così insegniamo il valore dell'antifascismo e gli spieghiamo che l'antifascismo non è compatibile col non fare entrare studenti di destra a scuola ma purtroppo si pratica così lo praticano così Jacopo vaglielo a spiegare tu che ti posso dire allora come vedete insomma il discorso sapevo che avrebbe che avrebbe giustamente ed è assolutamente appassionante come tema è anche una di quelle cose che comunque da questo punto di vista diciamo forse perché non c'è stata una diciamo al 100% diciamo una totale pacificazione su questi temi qui è comunque un tema che appassiona e anche parecchio siamo in ritardissimo devo andare in pubblicità poi rientriamo perché un'ultima coda la volevo dedicare su questo che sicuramente farà discutere tantissimo già lo fa discutere adesso il mondo della politica ovvero le decisioni che ha preso la procura di Bergamo in merito alla zona rossa ad Alzane Membro parliamo ovviamente di quello che è successo nel 2020 rientriamo pochi minuti ultima parte del dibattito di Omnibus apriamo questa parentesi poi ne parleremo anche in settimana su quello che è seguito alla decisione da parte della procura di Bergamo insomma di avvisi di garanzia la chiusura delle indagini comunque il coinvolgimento di istituzioni il governo il primo ministro dell'epoca Giuseppe Conte il ministro della salute Speranza ma anche il presidente Fontana allora assessore Gallera insomma un'inchiesta che fa parecchio discutere ieri insomma sono uscite anche le relazioni da parte del perito il professor Crisanti la bozza di Speranza la bozza di Speranza che non è stata controfirmata da parte di Giuseppe Corte insomma tutto questo che si espone a una serie di dinamiche anche di polemiche politiche molto molto forti io parto per motivi territoriali da Jacopo Dondelli perché lui ha scritto anche un editoriale e lo possiamo far vedere anche dal Tablet sugli stati generali e tu prendi una posizione molto forte insomma il titolo è abbastanza eloquente l'assurdo paese che scrive la storia della pandemia col processo penale sì prendo una posizione forte prendo una posizione netta che continuo a condividere il pensare che a tre anni di distanza unici unici in Europa e nel mondo nel mondo occidentale usiamo lo strumento del processo penale per rileggere la storia di quel tempo indagando i politici e non solo i politici ma anche medici scienziati a me continua a sembrare una cosa assurda non perché non ci fosse bisogno non ci sia bisogno di capire cosa è successo e anche eventualmente chi ha sbagliato qualcuno avrà sbagliato tendenzialmente credo che chiunque abbia sbagliato l'abbia fatto allora in buona fede e partendo dal presupposto che in quei giorni di febbraio e nei primi giorni di marzo del virus si sapeva ancora poco e gli unici dati che avevamo arrivavano dalla cristallina trasparenza della Repubblica Popolare Cinese quindi cioè non è che ci fosse grande disponibilità e grande chiarezza c'erano un sacco di pressioni si parla giustamente per esempio in questi giorni delle pressioni degli industriali di Confindustria che a Bergamo in quella zona è particolarmente radicata come tessuto di imprese perché c'era la preoccupazione come ha detto come ha detto anche Conte sulle insomma le ricadute economiche sociali le ricadute economiche ma c'era anche una pressione della società cioè in quei giorni pochi giorni prima c'era stata Milano non si ferma che adesso diciamo visto che ci siamo dimenticati tutto ma Milano non si ferma si nasceva da Confcommercio dal comune di Milano ma nasceva anche dalla voglia di noi milanesi di continuare a bere l'aperitivo oggi sul Libero si mettono tutte quante insieme le varie posizioni di tutti gli esponenti politici è così era una questione ampiamente bipartisan oggi nei giorni scorsi qualcuno riporta il fatto che Fontana esultò perché non era di competenza diretta o gli sembrò gli dissero che non era di competenza diretta regionale l'istituire la zona rossa ma tutto questo ci riporta un momento di grande difficoltà di grande confusione e io voglio tornare alle parole di uno degli scienziati che con più intelligenza ci ha accompagnato in questi anni secondo me che è Remuzzi che nelle interviste di questi giorni sta dicendo quello che io condivido nel profondo cioè che il tema qui non è cercare di usare il processo penale per dare la colpa a Conte o a Gallera a Fontano a Speranza o addirittura al professor Locatelli qui il tema sarebbe riguardando indietro diciamo così prendere sul serio i buchi che continuano a esserci negli ospedali e nella sanità dal punto di vista dell'organico perché la situazione continua a essere molto seria e la pandemia l'ha ovviamente peggiorata e prendere sul serio il fatto che un assetto istituzionale come quello che abbiamo in cui tutti possono decidere un po' Roma può decidere Milano può decidere e quindi poi nessuno alla fine decide è un problema ed è un problema politico sono tutti problemi politici non da risolvere con lo strumento del processo penale ma noi lo sappiamo che in Italia quasi sempre i problemi politici poi diventano oggetto di un processo penale allora vado proprio da Giulia Merlo che conosce insomma segue anche tutto quello che succede insomma intorno alle procure e tutto il mondo della magistratura in questo paese le pressioni erano fortissime l'associazione delle famiglie insomma ha fatto un presidio quasi quotidiano praticamente davanti alla procura per avere comunque delle risposte si poteva fare altro che cosa avrebbe potuto fare la procura di Bergamo dunque la procura di Bergamo fa il suo lavoro il tema che ecco se posso fare solo un appunto al titolo degli stati generali è che paradossalmente processo ancora non c'è perché si sono chiuse solo le indagini preliminari quindi paradossalmente di garanzia che purtroppo l'abbiamo detto anche ieri che sono tipo una sentenza di terzo grado in Italia che questo è il vero dramma di quella che è la giustizia in Italia cioè il fatto che noi parliamo di questa cosa con un'inchiesta che si è conclusa non c'è ancora il rinvio a giudizio a voto a voce solo in questo momento la procura che coerentemente ha indagato se reati ci sono stati e questo poi lo deciderà una sentenza con dei giudici che ascolteranno anche le altre parti il dramma di questa di come è stato forse raccontato e qui mi permetto una piccola notazione capo per carità sono legittime però avere in questo momento un procuratore che si espone così tanto mediaticamente su una tesi che in questo momento è la tesi di parte della procura trovo che aumenti la confusione e la polarizzazione intorno a un tema così delicato e così doloroso per molte persone detto questo la procura indaga su dei reati se reati ci sono stati ci saranno delle condanne portare questo però sulla sfera politica di una valutazione in un contesto che lo ricordiamo tutti forse ha ragione Tondelli ci siamo dimenticati cosa erano quei giorni ci siamo dimenticati la confusione e la difficoltà di decidere che cosa fare quando parlo da parte di tutti i leader politici tant'è che paradossalmente su questa forse è l'unica inchiesta in cui i toni politici non si sono alzati perché tutti in qualche modo avevano condiviso lo sperdimento in quella fase e l'indecisione ecco io credo che se condotte penali rilevanti ci siano stati è giusto che la procura li indaghi questo processo è un processo che quando si celebrerà sarà particolarmente delicato proprio perché dividere le responsabilità politiche dalle responsabilità penali sarà il vero tema portarlo nel dibattito con questi toni rischia di essere fuorviante ecco su questo volevo sentire anche le opinioni prima Rapisardo e poi del professor De Masi telegrafico insomma l'idea del processo penale comprendendo le ragioni delle famiglie facendo tara diciamo con chi ha vissuto quella tragedia in quella fase veramente clamorosa e unica anche della stagione Covid quella prima fase fu proprio quella roba lì per questo credo invece su questo sono d'accordo con Jacopo e con Giulia che tocchia la politica per questo mi auguro che l'inchiesta possa non compromettere la commissione parlamentare di inchiesta ora le commissioni parlamentare di inchiesta non hanno una grande fortuna in Italia ma io credo se fatta bene da questo punto di vista possa essere importante il dato che continuo su qua di maniera scandalizzata è quello del piano pandemico cioè sapere insomma che in Italia per tanti anni abbiamo avuto un piano pandemico non aggiornato e poi questo piano pandemico se è vera diciamo l'accusa di Crisante forse questo è l'elemento diciamo politico forse l'elemento è quello cioè pensare di combattere a mani nude una battaglia del genere sapendo che l'OMS lanciava da anni la possibilità di una pandemia non è stata una cosa improvvisa ecco questo è un elemento molto preoccupante e mi auguro anche tema ospedali tema appunto strumenti medici per affrontare tutto ci siamo trovati nudi ecco mi auguro che da questo punto di vista la responsabilità poi che sia una commissione che aggreghi e non che faccia un processo a una stagione che a mio avviso non può essere processata nella prima fase forse nella seconda fase c'è stato un opposto al contrario se nella prima fase si è stati troppo laschi nell'altra fase esageratamente diciamo i chiusuristi però ecco la commissione di inchiesta può servire a questo ecco l'impreparazione perché su questo volevo coinvolgere sia De Masi che poi Gigiuto perché ricordiamo benissimo lo faceva prima Tondelli sugli slogan Milano non si ferma mi ricordo anche quest'altro insomma lo riportava stamattina libero abbraccia un cinese che era una di quelle cose che uno deve farsi vedere la foto assolutamente con una persona con un asiatico qualsiasi per far vedere che comunque c'era vicinanza perché non si voleva fare discriminare qualcun altro però diciamo erano chiacchiere all'epoca che noi facevamo amabilmente prima del lockdown ovviamente da bar però c'è sempre il sentimento comunque la speranza che dal punto di vista della pubblica amministrazione e chi ha in mano i dati o comunque in mano delle responsabilità in qualche modo possa intervenire invece non c'è sempre questa rincorsa al consenso che poi come una lente deformante un po' cambia tutti quanti i nostri parametri professore ma sicuramente sì io mentre ascoltavo l'intervista del procuratore capo pensavo ma cosa avrebbe fatto questa persona così poco equilibrata se fosse stato lui a capo del governo in quei giorni terribili mettersi nelle loro scarpe come dicono gli inglesi nei panni altrui insomma si tenga conto che secondo tutta la stampa internazionale l'Italia è stata esemplare in questa circostanza pensiamo a cose avvenute in Inghilterra professore prima ha citato il Brasile insomma terra che conosce molto bene stendiamo un velo pietoso appunto lì siamo proprio a livello di delinquenza totale ma nel caso dell'Europa l'Italia è quella che si è comportata meglio quella che è stata chiamata alla prova più difficile perché è stato il primo paese investito dal covid eppure è l'unico paese che sta mettendo sotto processo i governanti di quell'epoca questo io lo trovo estremamente ingiusto condivido tutto quello che ha detto Giulia Merlo quello che ha detto Jacopo Tondelli e in più dico che secondo me bisognerebbe se proprio si dovesse fare un processo farlo a quelle imprese e a quella confindustria a quella assolombarda che hanno fatto di tutto per prorogare la chiusura prima e per anticipare la riapertura dopo su questo veramente ci sono stati casi terribili nel Bresciano e nel Bergamasco molte aziende che producono componentistica di armi non hanno chiuso mai caparviamente andando contro la legge quindi io sono fortemente consapevole del problema a cui si sono trovati di fronte i governanti di quell'epoca e proprio esprimo tutta la mia solidarietà a Conte a Speranza ma anche ad Arcuri che abbiamo dimenticato e che in quelle settimane fu sottoposto a pressioni terribili professore allarghiamo poi il discorso anche allora i rappresentanti anche della regione Lombardia adesso non voglio fare per completezza però segue il suo ragionamento insomma quindi anche includevo nel governo coloro che hanno governato lo ha dato per sottinteso assolutamente assolutamente sul clima e poi appunto l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione su come è cambiata la percezione in merito all'argomento di steccato di cutro che poi noi ricordiamo soprattutto gli eventi pubblici quindi ricordiamo la foto di un presidente della regione che ora è più presidente della regione che faceva questo ai tempi era segretario di un partito insomma non fare nome e cognomi che faceva parte di questa avventura del Milano insomma era successo un po' di tutto però dimentichiamo cose che invece abbiamo fatto anche noi cioè gli errori di valutazione o meglio l'assoluta impossibilità di prevedere cosa stesse succedendo ha portato io ricordo andavo negli uffici delle aziende alle quali lavoro e mi facevano firmare un foglio in cui mi dicevano sei mai stato a Codogno negli ultimi sei giorni se non sei stato a Codogno puoi entrare negli uffici perché non sapevamo il rischio cosa fosse evidente che poi abbiamo scoperto certo non era solo a Codogno il virus certo era circolato quindi insomma c'era una difficoltà straordinaria nel capire cosa stesse succedendo ma anche nelle nostre vite non solo in quelle dei protagonisti politici quello che però gli italiani non perdonano alla politica ma non solo a una parte politica tutta la politica è la gestione quello che diceva prima Antonio Rapisarda l'assenza di un piano pandemico perché poi parliamo di questo evento come un cigno nero dicevo all'inizio alla Taleb cioè una cosa assolutamente imprevedibile in realtà lo stesso Taleb ha detto una volta questo non è questo tipo di evento non è un cigno nero perché sono largamente prevedibili perché come diceva Antonio Rapisarda effettivamente sono degli eventi che in qualche modo già la comunità scientifica ci aveva raccontato ci aveva in qualche modo detto che sarebbe successo questo non ce lo perdona però perché è specchio di un vizio del nostro paese della nostra politica e cioè trattare i temi quando finiscono al centro dell'agenda fino a quel momento ti dimentichi pure che dovresti averlo in un piano pandemico e questo davvero gli italiani non ce lo perdono mi è rimasto il tempo è comparsa magicamente vicino a me la gardenia dell'Aism perché oggi è l'8 marzo torna nelle piazze bentornata Gardensia fermiamo tutti insieme la sclerosi multipla con un fiore anzi due una gardenia e un'ortensia grazie al contributo all'Aism l'associazione italiana per la sclerosi multipla si può garantire e potenziare i servizi sul territorio e sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate si può donare anche con un sms al 45512 lo vedete dal cartello 45512 e con l'occasione io volevo fare un saluto personale da parte di tutta quanta la redazione e di questo studio ad Alessandro Ricasoli Alessandro è stato per anni qui con noi è stato assistente di studio lo ricordiamo tutti quanti Alessandro purtroppo sta vivendo in questo momento questo dramma però lo sta combattendo a suo modo ha una pagina Instagram che si chiama sla underscore rompi sla trattino basso in italiano rompi e denuncia tutte quante le storture e tutte quante le difficoltà che hanno persone come Alessandro che stanno vivendo questo dramma soprattutto per quanto riguarda le barriere architettoniche con questo un saluto ad Alessandro da parte di tutti quanti e noi io ringrazio Livio Gigliuto Antonio Rapisarda ringrazio Jacopo Dondelli professor De Masi e Giulia Merlo per essere stati con noi questa mattina l'appuntamento con il dibattito di Omnibus è per domani sempre alle 8 ci sarà qui al mio posto Gaia Tortora grazie e buona domenica a tutti